Intanto sulla nuova commissaria mi sembra una donna molto preparata, molto determinata, ha una conoscenza antica del Parlamento, è stata lei stessa negli anni scorsi una parlamentare molto attiva, ha avuto un'esperienza importante in Portogallo, ha una trevolezza sul piano economico molto forte che fa diventare la commissaria della politica di coesione centrale nel team sulle politiche di investimenti pubblici europei nei prossimi anni, quindi io sono molto soddisfatto della sua audizione e mi pare che abbia colto anche molti dei temi su cui ci stiamo battendo come Italia e come parlamentari europei da molto tempo, a cominciare da quella golden rule sugli investimenti e sui cofinanziamenti, che a me pare un punto cruciale per rilanciare una politica di coesione non separata da un rilancio della politica degli investimenti in Europa. Poi tutto questo avviene nel pieno di questa settimana di dialogo e di confronto con le regioni e con le città, è molto importante, questo significa saldare ancora di più un rapporto di collaborazione e fare fronte unico nelle sfide dei prossimi mesi, noi dovremo discutere nei prossimi mesi il nuovo bilancio comunitario da un lato e dall'altro i nuovi regolamenti che consentiranno l'utilizzo di queste risorse a cominciare dal nuovo regolamento generale della politica di coesione e dal FESR dove noi indichiamo risorse importanti per le città, per i piccoli comuni, quel 5% che abbiamo messo in dotazione per i piccoli comuni questo deve consolidare un dialogo e un confronto con l'Europa delle regioni e l'Europa delle città perché sono i cittadini i principali utilizzatori della politica di coesione. Credo che questi siano in sintesi i lavori di queste settimane e credo che davvero con la nuova commissaria si può aprire una stagione nuova della politica di coesione.